Aho, datemi giusto una diecina di minuti e sto là da voi, eh? Dieci minuti, dai, quanto basta? Arriva? E ciao Cenefusi, bentornati qui sul canale! Iniziamo quindi a parlare di questa nuova pellicola di Maria, Sole e Tognazzi. Dieci minuti a partire da adesso, nel frattempo che io cerco il cronometro. Voi, c'ho dell'agenziana fatta in casa qua, adesso tirerò fuori l'agenziana. Co-sceneggiato quindi questo film, oltre che da Maria Sole e Tognazzi che ne cura la regia, anche Francesca Archibugi, cioè nelle retrovie della sceneggiatura, ispirato all'omonimo romanzo di Chiara Gamberale, e questa è la mia agenziana fatta in casa, non da me distribuito, da Vision Distributions. Nel cast abbiamo Alessandro Tedeschi, abbiamo Barbara Ronchi, Margherita Bui che sempre ci piace, tanto ci piace, Fotini Peluso, in uscita il 25 di gennaio. Molto bene. Che dirvi allora, la trama, la trama vede Barbara Ronchi, che è la nostra protagonista, che nella vita reale è ammogliata con Alessandro Tedeschi, e anche qui sono una bella coppia, una bella coppia che però si lascia, quindi tanto bella non era, fondamentalmente. Abbiamo la struttura del film, è costruita su più livelli, abbiamo un gioco di presente flashback, quindi passato e di nuovo presente, un flashback che si inserisce a schiaffo all'interno della narrazione, che un po' ti depista, perché dici, e poi ti riallacci un attimo, quindi una struttura su più livelli, molto ben costruita, nel senso che ti fa perdere, a me personalmente parlo sempre di teorie soggettive, emozioni soggettive, quindi una narrazione che ti depista, ma sa a riallacciarti. E quindi siamo nel presente, Barbara Ronchi viene lasciata bruscamente dal nostro Alessandro, che nel film prende il nome di Nick, mentre Barbara si chiama Bianca. Bianca viene lasciata da Nick, non riesce a sopportare questa cosa, si lasciano perché lui lamenta verso di lei una mancanza totale di attenzione verso tutto ciò che la circonda. Quindi Barbara interpreta questa bianca, questa donna distratta, questa donna che non è in grado di guardarsi attorno, è di non accoggersi di nulla, questa donna fragile, non debole, fragile, che però entra in una spirale vorticosa che la porterà sempre più in basso, sempre più nell'abisso, dal quale poi è difficile uscirne, anche se sei una persona forte. Dimostrerà di essere una persona forte, nonostante i traumi, i crolli emotivi, psicologici, insomma, non se la passerà bene la nostra Bianca da quando Nick andrà via di casa. Quindi, appunto, il trauma sarà talmente forte da portare Bianca in analisi, fondamentalmente, e la nostra Margherita Bui sarà la sua analista, psicoanalista, la sua terapeuta, come vogliamo definirla. Una persona che calca perfettamente la persona, ecco, la persona di Margherita Bui, un personaggio che è ritagliato proprio attorno al suo essere, così cinica, fredda, ironica, ma è quell'ironia, capito, che ti arriva come una coltellata nel petto, capito, è molto tagliente, scorbutica, e odia fondamentalmente tutti i suoi pazienti. Non è che li odia, non ha pretese di risultare simpatica, non pretende di risultare simpatica. Ha però una soluzione per Bianca. le propone di fare dieci minuti al giorno, per un mese, di, quindi se non sbaglio sono 31 volte, dicono nel film, di provare a fare per dieci minuti una cosa che non ha mai fatto, una cosa che le fa schifo, una cosa che le piace, una cosa che la spaventa, ma che non ha mai fatto. E quindi Bianca si ritroverà a fare appunto, che ne so, partecipare a un funerale, rubare, fare sesso occasionale, cose che non ha mai fatto e che magari la sua mente, che esistevano magari solo nelle sue fantasie, o che magari non sapeva esistessero nelle sue fantasie, e che poi una volta che l'hai provato, dici, eh però, quasi quasi. Questa cosa ecco, servirà a Bianca per trovare la forza di rialzarsi, per ritrovare, sì, per essere smossa in qualche modo, ok? Quei dieci minuti ti danno quel brivido che ti permette di avere uno scossone tale da risalire un po' dall'abisso. Al fianco della nostra Bianca ci sarà un'ottima fotinì peluso che fa la sorella Jasmine, una ragazza di una bellezza sconvolgente, e è completamente l'opposto della sorella, il che è molto interessante, mentre Barbara è, Barbara Ronchi, Bianca, è molto chiusa, quasi a paura, quasi, ecco, quasi asociale, quasi a paura del mondo esterno, Jasmine, ecco lei, magari che si rimbocca le maniche e ti prende a schiaffi a due a due finché non diventano dispari, insomma, c'è questo personaggio molto carismatico, molto attaccato alla vita, molto attaccato, molto materiale, e quindi sarà un po' lei a sostenere la sorella e a darle una bella sferzata, ok? Grande lavoro di tutti quanti gli attori, anche Alessandro Tedeschi, che fa appunto Nick, rappresenta questo uomo stronzo, cinico, egocentrico, narcisista, e in merito a questo voglio muovere, però, non è una critica, è un punto, un pensiero, premetto, ok, è un cast interamente femminile, il film non ha la pretesa di essere femminile, femminista, eccetera, 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 però non capisco per quale motivo in questo film tutti gli uomini sono disegnati un po' come, un po' alla Barbie, ok, non dico stupidi, ma tutti traditori, cioè non c'è nel film una donna che tradisca l'uomo, o che comunque parli di un tradimento che ha mosso verso il suo ragazzo, marito, ex, ok, sono sempre gli uomini a tradire, e i quattro uomini che vengono presentati fondamentalmente in questo film, uno bonus, perché comunque ne parlano, ma non si vede che sarebbe il padre del ragazzo sulla sedia a rotelle che conosce Bianca in macchina, sono tutti traditori, sono tutti traditori, o comunque lo sono stato, lo sono stati, no, allora, io, era molto interessante il personaggio di Alessandro Tedeschi, fai in modo che il maschio tossico sia solamente lui, concentriamoci su di lui e sul rapporto che ha con la sua ex moglie Bianca, perché è molto interessante il loro rapporto, ed è molto interessante il personaggio di Nick, di Alessandro, non capisco perché tutti i uomini che appaiano, quei pochi uomini che appaiano in questo film siano tutti dei malviventi fondamentalmente, quindi questa cosa un po' fa storcere il naso, ma, ma, il film non ha la pretesa di essere appunto un film femminista contro gli uomini, un film al femminile contro l'uomo, quindi l'uomo non è descritto male, infatti Maria Sole Dognazzi ce l'ha detto in conferenza, nel senso che ha cercato di bilanciare, ok, l'uomo ha delle ragioni, l'uomo ha dei torti, la donna ha delle ragioni, la donna ha dei torti, quindi si completano, hanno un po' un 50 e 50, però, diciamo, nella sceneggiatura c'è questa cosa che io ho avvertito dell'uomo che è un po' il pericolo, insomma, cioè, parliamone, ma è una robetta, per carità, non sto appiccando falò, non sto scendendo in piazza con i forconi, ma, diciamo, su quattro uomini, magari tre, potevano essere dei pezzi luridi, schifosi, uno, magari, lasciatelo, carino, pacioccone, e fedele, no? Comunque, detto questo, ecco, ricordiamo, non tutti i uomini sono infedeli, non tutte le donne sono infedeli, non tutti i uomini sono fedeli, e viceversa, cioè, siamo uguali, no? giustamente. Quindi, non muoviamo messaggi negativi, non parlo di questa pellicola, in generale, siccome, ecco, nel 2024, ormai c'è un po' il panico tra gender, sesso, e politicamente corretto, non muoviamo, lo dico sempre, nelle recensioni di questo tipo, messaggi che non diffondiamo odio, ecco, ne parlavo anche per la terra delle donne. Detto questo, vi bacio, come sempre, iscrivetevi, commentate, condividete, lasciate like, e fateci sapere cosa ne pensate dopo il 25 gennaio quando potrete recuperarvelo nelle sale. Ciao ragazzuoli e ragazzuole.